Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una volta ai tempi di Gaber era più semplice da capire, no? Perché? Perché c'era Almirante da una parte, c'era Berlinguer dall'altra e in mezzo a dividerli c'era la democrazia cristiana. All'apparenza erano veramente cristiani. Dal lunedì al sabato, nelle stanze del potere, tramavano, facevano cadere i loro stessi governi, si pugnalavano tra correnti, brigavano con i servizi segreti, trafficavano con la Lockheed, poi la domenica mattina li vedevi tutti a messa come animi pie. Leone, Fanfani, Andreotti, Colombo, Forlani erano sempre lì, più che politici erano perpetue. Andreotti andava in chiesa a confessarsi tutte le mattine, cercava di prendere Dio per stanchezze. Adesso è cambiato tutto, purtroppo in chiesa non ci va più nessuno, la messa è finita, ecco come in 30 anni è calata la partecipazione. Cioè in 30 anni la partecipazione alla messa della domenica è passata dal 37% al 23%. Mamma mia che crollo, ci sarà mica? Ma se sarà mica alleata con Calenda? Perché se non è spiegabile, la chiesa, i giovani alle funzioni non ci vanno, sono rimasti solo gli anziani, che però a poco a poco, per questione una grafica, invece che pregare Dio in chiesa, preferiscono andarli a parlare direttamente, no? A messa non ci va più nessuno, non ci si sposa più, pochi battesimi che non si fanno perché non facciamo più i bambini, praticamente ormai la chiesa si riempie solo ai funerali e ad ogni funerale c'è un fedele in più che se ne va, quindi al funerale dopo ce ne sarà sempre uno di meno, per il giorno in cui a un funerale ci sarà solo il morto. Il cristianesimo è impicchiata e voi direte, poveri preti, è triste dir messa con la chiesa vuota, ma no, tranquilli, non ci sono più nemmeno i preti, l'Italia senza preti, seminari chiusi, evocazioni in calo. Io mi ricordo quando ero piccolo andavo a giocare nel campo del seminario, c'era un seminario bellissimo lì, a quello lì sono io a nove anni, credo. Era un seminario così affollato, c'erano un sacco di giovani che cercavano di diventare preti, no, era più affollato di un concerto di Vasco, ragazzi credetemi era una cosa incredibile. Noi entravamo in questo seminario perché non potevamo entrare, c'erano i cancelli con le sbarre, ma noi eravamo così magri, così acciughe che entravamo di profilo così nelle sbarre, no, perché veramente eravamo sottilissimi. Poi quando arrivavano i seminaristi noi dovevamo scappare, ci mandavano via e traslocavamo in parrocchia dove c'era una chiesetta con un altro campetto piccolo. Tutti i campetti nel nostro quartiere erano della chiesa. È un mondo che non esiste più. Ora gli oratori si chiamano Tinder, i fedeli si chiamano follower, e anche le madonne sono cambiate. Santa Chiara dei Pandori, ora Pro Holding. Quando una società cambia lancia sempre dei segnali e uno evidentissimo è arrivato domenica scorsa. Chiara Ferragni a che tempo che fa ha superato il Papa agli ascolti TV. A gennaio la trasmissione col Papa si era fermata al 13% di Scherr, invece domenica con Ferragni Fazio è arrivata al 14%. È il record storico del 9, è stagionale per Fazio. La domanda è, come l'avranno presa in Vaticano? Il sorpasso negli ascolti della Ferragni. Io un'idea me la sono fatta. Provo a farvela vedere. Datemi solo il tempo, non ora, di prendere i voti e diventare cardinale per essere eletto Papa. Ma non ora, datemi il tempo, fra poco.